Siamo in viaggio verso Sfacchia, direzione poi Franco Castello, abbiamo da poco abbandonato la New National Road, questo qua che taglio di curva bastardo, scusate, e niente, ci abbiamo questa montagna davanti, probabilmente le costeggeremo, si infiliremo da qualche parte, da quella parte lì, comunque la strada è buona ancora, mi aspetto che sia così fino alla fine, vedremo. Quanto gente. Adesso Sfacchia. 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 la strada è abbastanza bella, non l'ho sistemata, non so come era lì la strada è abbastanza bella, non so come 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 la str Grazie a tutti. Eccoci qua, sempre lungo la strada per Scafia, siamo in discesa, la strada come potete vedere è tutta a doppia corsia, direi che è stata non so quando allargata rispetto a altre strade che vanno nella Fonissi, è molto più stretta. Qua direi che grossi problemi, sono un sacco di curve, si va piano, però non ci sono strettoie, parte 2 o 3 dove ce ne sono i paesini, ma niente di che. Abbiamo un po' di tornanti per scendere verso Sfacchia, uno dietro l'altro, adesso qua ce ne sono veramente una decina penso, perché siamo molto in alto e il mare è proprio lì sotto. Saremo a quanto in altezza? Saremo a 500-600 metri, ma siamo su parecchio. Vediamo se riesco a vederlo da questo lato. Questa è come qualmente era tutta la strada una volta e questi sono gli ultimi chilometri a scendere, quindi da andare piano piano, perché la strada più stretta si trovi un autobus qua. Speravamo forse bella fino in fondo, ma a quanto pare non hanno ancora finito i lavori. Diciamo che se non fosse per l'asfalto sarebbe come quella che va a Valos. Anche tra la vallata, anche quella. Ancora un pezzettino di strada stretta, e là sullo sfondo, credo, va bene se c'è Franco Castello. Eccola, adesso qua si allarga, eccola a questo punto qua, la strada torna ad essere umana, diciamo. Un chilometrino, diciamo, di strada stretta su tutto il percorso, basta farla piano e poi si torna a avere, questo qua sarà l'undicesimo tornante. E ce ne sono ancora N a scendere, è veramente una strada tutta tornante. Penso a farla tutta così, come abbiamo fatto quel pezzettino lì, non lì più, eh.